Sapevi che oltre il 30% della popolazione italiana soffre della sindrome del colon irritabile? La buona notizia è che puoi star meglio adottando uno stile di vita sano e alimentandoti nel modo corretto. Sono Leda Roncoroni, ricercatrice universitaria e biologo nutrizionista e nel mio corso su Accademia del Benessere ti aiuterò a conoscere e comprendere questa patologia. In cucina ci sarò io, sono Giulia Leoni e ti fornirò tante idee di ricette per una dieta a basso contenuto di FODMA. Trasforma il tuo stile di vita senza trascurare il tuo stile in cucina sul canale benessere di Accademia.tv